Prima di introdurre i nostri tre relatori, di cui uno è al momento invisibile, volevo fare una riflessione sul rapporto tra studi di genere e migrazioni, perché è un rapporto abbastanza complicato, è un rapporto che ha stentato a definirsi. Certo, noi sappiamo che gli studi di genere hanno una storia molto recente, soprattutto in Italia, in Spagna, e che comunque ancora stanno cercando una visibilità in diversi ambiti disciplinari. Però, per quanto riguarda le migrazioni, l'engendering, uso la parola inglese perché non è traducibile in italiano, la prospettiva di genere richiama, rimanda a una concezione statica, mentre l'engendering rimanda a un processo dinamico. L'engendering migration ha faticato a rendersi, come dire, a farsi sentire. Per cui, ad esempio, di questo si lamentava, scusate, sono questi autrici, questi nomi famosissimi che vedi sempre sui libri, ma che poi non sai pronunciare perché non li hai mai sentiti pronunciare, per cui potrei pronunciarle in una maniera vergognosa, mi scuso, Ondagneo Sotelo, credo che si dica così, nel 2003 diceva che appunto gli studi sulle migrazioni sono condotti come se le relazioni di genere fossero irrilevanti. Quindi stiamo parlando di 13 anni fa, non stiamo parlando di 30-40 anni fa. E ancora alcune, Karen, Chopper, Donato e Garip, nel 2006, hanno fatto proprio uno studio, prendendo in considerazione diverse riviste internazionali, per vedere quanto l'engendering fosse entrato negli sguardi dei ricercatori e delle ricercatrici. E i risultati sono abbastanza spiazzanti, nel senso che solo il 23% degli articoli presi in considerazione in queste diverse riviste, parlo di quattro riviste internazionali, usa il genere come fattore chiave nella definizione dei processi migratori. E in particolare sembra esserci un gap tra le riviste sociologiche, American Sociological Review, e le riviste di settore. Cioè, è più facile, era più facile, 10 anni fa, 13 anni fa, 15 anni fa, trovare una prospettiva, appunto, prospettiva di genere non funziona, comunque, uno sguardo di genere negli articoli che parlavano di migrazione, ma nell'ambito di riviste non specializzate, che non nell'International Migration Review. E questo è un dato. Quindi, fatica a far passare questo sguardo di genere, e quando è passato, è passato in modo un po' riduttivo, quindi, assumere uno sguardo di genere ha significato sostanzialmente, per diversi anni, parlare di donne migranti, no? Questo perché? Perché il genere, noi sappiamo benissimo, che non è soltanto un principio ordinatore che definisce gerarchie, che definisce chi siamo, o meglio, chi dobbiamo essere in funzione del corpo in cui nasciamo, ma è anche un qualche cosa che, come dire, definisce ciò che vediamo e ciò che non riusciamo a vedere, ciò che scegliamo di raccontare ciò che scegliamo o che non ci accorgiamo di scegliere di non raccontare, e il modo in cui lo raccontiamo. Ma questo, a mio parere, e questa è una cosa che mi piacerebbe condividere, io ho un po' da rifletto sul fatto che queste trappole del genere, cioè non riuscire a vedere certe dimensioni piuttosto che altre, non riguarda soltanto gli sguardi non allenati, ma riguarda anche chi si occupa molto spesso di genere in una prospettiva cosiddetta gender sensitive. Allora, che cos'è che non riusciamo a vedere? Non riusciamo a vedere le dimensioni caratterizzate da un eccesso di cittadinanza, non riusciamo a vedere la bianchezza, non riusciamo a vedere l'eterosessualità, non riusciamo, abbiamo faticato a vedere la maschilità, un certo tipo di maschilità. Altre dimensioni, invece, non vengono raccontate. Allora, quali sono le dimensioni che non vengono raccontate? Perché non vengono raccontate? Non vengono raccontate per un difetto di cittadinanza, non racconto l'omosessualità maschile, racconto ancora meno l'omosessualità femminile, perché poi i rapporti di dominazione tra maschile e femminile interferiscono anche sullo sguardo che noi abbiamo nel leggere, ad esempio, il mondo omosessuale. non raccontiamo il transgenderismo, c'è un silenzio inquietante rispetto all'intersessualità, ad esempio. Ecco, però, dicevo, attenzione, non è soltanto una questione di allenamento, come dire, questo è un problema di chi non si occupa di genere, mentre noi, studiosi e studiosi di genere, riusciamo a vedere tutto. No, perché in realtà, molto spesso, anche noi cadiamo in alcune trappole, no? E le gabbie di genere, in qualche modo, orientano il nostro sguardo su certi temi, piuttosto che altri, non riusciamo a vedere certi temi. Allora, un esempio molto chiaro legato a maschilità e migrazioni. Ecco, noi, oggi e anche ieri, apro e chiudo parentesi, io trovo vincente e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione di questo convegno, l'idea delle sessioni non parallele, perché è importante ascoltarsi. Chiusa parentesi. Allora, noi oggi abbiamo parlato moltissimo, in modo anche molto stimolante, di paternità bianca, eterosessuale. Abbiamo anche parlato ieri di paternità omosessuale, ma perché come eccezione diventa autoevidente. È molto difficile parlare di paternità migrante. Io lo so perché me ne sono occupata e quindi, peraltro, non a caso, si è cominciato a parlare di famiglie transnazionali quando? Quando ci si è accorti che le prime migranti erano anche donne. Però in questa narrazione sulle famiglie trasnazionali si è parlato soprattutto di madri. Non si è, raramente, ultimamente qualche studio c'è, ma sono veramente pochi a livello locale, cioè italiano, ma anche a livello internazionale, è difficile che si parli di paternità trasnazionale, ad esempio. per cui, attenzione, perché anche noi che pensiamo di avere uno sguardo allenato, a volte cadiamo in alcune trappole. Ecco, quindi questo panel mi sembra, come tutto il convegno del resto, molto interessante perché ci offre sguardi differenti e secondo me la composizione generazionale non è casuale, nel senso che io sento un gap generazionale, no? Per cui i giovani studiosi e anche le giovani studiosi ma in questo caso quando si parla di maschilità non sempre però spesso sono studiosi e hanno uno sguardo diverso, non c'è nulla, c'è, c'è una differenza, no? E quindi abbiamo Danny Carnassale, sociologo dell'Università di Padova che ci racconterà gli effetti dei processi di costruzione delle maschilità gay sulle biografie dei richiedenti asilo perché sì, certo, i processi di costruzione sociale del maschile e del femminile costruiscono la realtà e questo ha delle ricadute pratiche visibili, tangibili rispetto alle biografie dei soggetti. Poi abbiamo Calogero Giametta, sociologo diviso tra Londra, l'Institute for Humanities at Burbank, spero di aver pronunciato bene, College e Marsiglia, ex Marseille Université. Ecco, con lui rifletteremo sul carattere relazionale delle maschilità, lui giustamente ci dirà attenzione, carattere relazionale non significa soltanto in relazione al femminile ma è tutto molto più complesso ed è anche molto complesso il suo intervento perché toccherà diversi nodi quindi è anche difficile da riassumere e farà questa riflessione sul carattere relazionale delle maschilità anche attraverso la lente della transensualità migrante M2F. E poi speriamo che ci raggiunga il nostro relatore invisibile perché il suo approccio è altrettanto interessante e Piero Vereni antropologo culturale che insegna a Roma a Torvergate e anche al Trinity College del sede di Roma che ci parlerà della violenza di stra... che spero che ci parlerà della violenza di strada al limite chiamiamo Luca Trappolini Sì però lui no no anche perché lui Luca con De Rio ha un rapporto anche di scambi per cui è più facile interpretare invece ecco la violenza di strada tra uomini in Bangladesh e a Roma rinflettendo sull'intersezione tra violenza maschilità e identità e purezza islamica e anche questo mi pare uno sguardo innovativo perché è anche la violenza maschile tra uomini che noi fatichiamo a vedere non mi ricordo più in quale intervento interessante di ieri mattina si è riflettuto sul come noi diamo per scontata la violenza maschile come se ci fosse un'essenzialità maschile che porta naturalmente alla violenza per cui noi ragioniamo sulla violenza di genere ragioniamo sull'omofobia ma più difficilmente siamo portati a vedere la violenza tra uomini ecco allora io lascio la parola al primo intervento io avevo detto loro 20 minuti però vediamo perché se non arriva Piero al limite possiamo allungarci un'esercizio